La firma per il pensimento? Questo è il percorso degli artigiani del paese. Ah, l'ha già presa? E ora è impegnato. Eh no, ma finora siamo stati bene, c'era un bel sole. Eh sì, veramente. Ci siamo tutti noi degli anni precedenti. Però ce la cercate, non lo so dove sono. Non ci siamo tutti noi del cibo. Non ci siamo tutti noi del cibo. C'è un piatto. Ecco, buon po' ci siamo tutti. Ho un po' di castiglia. Questo è il mio amico costante. Non ci siamo tutti negro. E questo è il mio amico. E questo è il mio amico. Un po' di castiglia dinung. E questo è il mio amico. e le prendine un po' su uno di quelli lì per attaccarli all'alberino guardami non vuoti se ce la faccio sai che ci vuole più pacevole qui dietro un paio oro lì ci sono le tue ci sono le tue e ci sono le tue e ci sono le tue I coniglietti, ma l'avete visto? I coniglietti, le galline. Si? Si. Ha fatto così, ha fatto una zappetta così. Ha fatto una zappetta così? Si. Ha fatto una zappetta così. Ha fatto una zappetta così. Ha fatto una zappetta così. Ma effettivamente la cosa è quanto mai originale. Guarda che roba. E' nato un po' alto. Che pianta è? Che pianta è? Che pianta è? Era troppo piccante. Tieni qua, tu. Signora, prima che prenda il buio, C'è una mica una stanza. C'è una mica una stanza. No, ma no, perché io pensavo... Ma il 25 dicembre... No, ma è natessa. Fra poco io ho bisogno che trovi... Ma siccome io le donne non le voglio. Vuoi fare una foto? Io volentieri, ma come faccio che... Il viso era meglio. Prende il buio proprio avanti. C'è pieno oggi in questo paese per il censimento. Nessuno... Buon alloggio, prendiamo. Alloggio. Alloggio, ragazzi. Prendiamo per Maria. No, non vediamo niente. Non vediamo niente. Non vediamo niente. Allora, niente. Andiamo, su. Non ce la faccio. E' chiudo. No, eravamo qui. Non ce la faccio. No, ce la faccio. E ce la faccio. E' una zemma, Gisetto. E' una zemma, Gisetto. è una zemma, Gisetto, Gisetto. E' accus? Noi sono lì. Il re Erode, ecco giungere a Gerusalemme dall'Oriente dei Magi, i quali domandarono, dov'è il neonato, il re dei giudei? Tutti sul luogo trovarono il bambino e sua madre, si prostraro in adorazione, poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono il dono, oro, incenso e mirra. Il re Erode, ecco giungere a Gerusalemme dall'Oriente dei Magi. Grazie a tutti.